Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continuiamo a parlare di color correction, parliamo quest'oggi del vettorscopio ovvero lo strumento che ci permette di misurare la crominanza, la componente colore di un'immagine Vi ricordo www.fabioambrosi.it, sito dove troverete un articolo su questo argomento se volete recuperare qualche informazione al volo vi ricordo anche, vi consiglio di iscrivervi a questo canale youtube per non perdere anche i prossimi video tutorial, vi ricordo che nei prossimi mesi faremo anche qualche sessione live quindi per non perdere nulla mi raccomando iscrivetevi, accendete le notifiche se vi fa piacere e basta così continuiamo a parlare subito di color correction, concentriamoci sul vettorscopio quindi spegniamo l'oscilloscopio per il momento per spegnere l'oscilloscopio clicchiamo nel pannello oscilloscopio lumetri col tasto destro del mouse e disattiviamo la voce forma d'onda luma così abbiamo solo il nostro vettorscopio davanti benissimo, che cos'è un vettorscopio? è uno strumento, come si diceva, per misurare la crominanza vale a dire la componente colore delle nostre immagini cosa vuol dire? vuol dire che è uno strumento che ci permette di misurare la tonalità e la saturazione presente nelle nostre clip video come si legge un vettorscopio? vedete che abbiamo un cerchio, sostanzialmente un oggetto di forma circolare con tanti puntini e tanti disegnini cosa significa? allora, guardiamo innanzitutto l'immagine che sta generando questo vettorscopio abbiamo il grigio, il giallo, il magenta, il verde, il ciano, il rosso, il blu poi c'è il bianco e c'è in fondo il nero questi sono i colori che stanno generando il nostro vettorscopio allora, cosa sta succedendo qui? già è facile capire che il bianco è questo puntino qui al centro le informazioni, diciamo, colore che virano verso il bianco sono al centro di questo cerchio questo significa anche che la nostra immagine ovviamente è poco satura di colore un'immagine in bianco e nero avrà tanti colori che sono tutti qui intorno al punto centrale man mano che ci allontaniamo dal punto centrale del vettorscopio abbiamo un'immagine via via più satura di colore quindi con una componente cromatica maggiore vedete dei punti, no? questi punti, come potete immaginare, sono dei punti generati dai vari colori presenti nella nostra immagine ora, chiaramente qui stiamo utilizzando un segnale di barre colorate quindi chiaramente abbiamo dei puntini in un'altra immagine, prendiamo ad esempio l'immagine che abbiamo visto nelle scorse lezioni del castello potete vedere che non abbiamo dei puntini abbiamo diciamo delle cloud, delle nuvole di colori e ci indicano questi punti ci indicano quali sono i colori verso quali colori tende sostanzialmente la nostra immagine ma torniamo per un momento alla barra colorata eccoci qua allora, vediamo appunto che abbiamo il magenta abbiamo il blu, abbiamo il ciano, abbiamo il verde e abbiamo il giallo e ovviamente abbiamo il rosso cosa indica questo esagono al centro del nostro cerchio? bene, questo è un limite da non superare perché sostanzialmente quando i colori, i puntini superano questo esagono è indice insomma che la nostra immagine è troppo satura ci sono troppe informazioni di colore all'interno della nostra immagine e per stare tranquilli con gli standard broadcast è sempre bene rimanere all'interno di questo esagono come dicevamo prima, torniamo all'altra immagine in un contesto normale non abbiamo dei puntini abbiamo delle nuvole di punti vediamo per esempio in questa immagine che abbiamo un video, un'immagine che tende sostanzialmente sui colori del giallo e del rosso vedete che qualcosina supera il nostro esagono probabilmente è questa componente del tetto che va un po' troppo in là rispetto a dove dovrebbe essere insomma al nostro esagono possiamo desaturare tranquillamente un pochettino l'immagine e vediamo che cosa succede vedete che io desaturo e vedete che piano piano i punti rientrano all'interno dell'esagono attenzione ora non dobbiamo fissarci se qualcosina esce un pochettino non è un problema possiamo sempre desaturare e poi lavorare per esempio con la vividezza per rialzare un pochettino diciamo la vividezza è una proprietà che ci aiuta in qualche modo a ridare colore senza però spingere vedete la componente della cruminanza troppo oltre il nostro esagono non prendete quello che sto dicendo come una regola fissa ripeto questo non è un corso di color correction stiamo solo vedendo come funziona questo strumento più o meno come leggerlo ricordo che se volete approfondire il tema online trovate molta documentazione e molti altri tutorial fatti anche da persone che hanno molta più esperienza di me in questo campo però sostanzialmente questo è il vetroscopio e a questo serve è uno strumento da tenere sempre a portata di mano quando si fa color correction vi do una piccola dritta quando dovete color correggere l'incarnato si dice quindi la carnagione di una persona di un intervistato di un personaggio che avete davanti normalmente l'incarnato della persona si va ad attestare lungo questa riga tra il giallo e il rosso chiaramente la nostra carnagione non è gialla non è troppo rossa il nostro incarnato è possiamo definirlo un marroncino un rosa diciamo che ecco di norma quando si fa color correction su un incarnato questa nuvola di colori deve stare intorno a questa a questa riga qui tra il giallo e il rosso nel prossimo tutorial nella prossima lezione parleremo dell'oscilloscopio vedremo cos'è e a cosa serve come utilizzarlo come leggerlo qui in Adobe Premiere www.fabioambrosi.it dove troverete anche l'articolo associato a questa lezione se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale YouTube cercatemi su Facebook cercate Fabio Ambrosi mettete un like quando faremo le sessioni dei tutorial live sicuramente verrete aggiornati in quella sede ok grazie mille al prossimo video tutorial ciao